La registrazione è in corso, buongiorno a tutti, sono le 9.05, procedo con l'appello, chi ha bisogno della giustifica la chiede. Corrente? Sì, buongiorno, presente con attestazione, grazie. Angelini? Presente. Bedoni? Burgio? Canale? Presente. Sordini? Buongiorno a tutti, presente. Vecchio? Presente. Faccio una seconda chiama per il consigliere Bedoni? Perfetto, abbiamo il verbale della scorsa settimana caricato. Ok. Allora. Condivido lo schermo, condividiamo lettura. Allora, il verbale del 14, quindi settimana scorsa. Approvazione verbale è stato dell'arte piste ciclabili finanziate dal PNR, PNRR, il municipio di Roma 9, in scadenza 31-12-23. Allora, verbale numero 3, letto e approvato, verbale 45-23, letto ed approvato. La seduta ripiena 9-35, presidente apre il punto 2 all'ODG, stato dell'arte, piste ciclabili finanziate. Dipendente fa una breve introduzione dell'argomento rappresentando le motivazioni della convocazione, ovvero fare un cerchio della situazione e anche della condizione attenzionata più volte dal consigliere Burgio, riguardanti i parcheggi e ridosso della ciclabili davanti al liceo Caravaggio. Ricorda che l'ultima seduta sul tema si è svolta 6-7 mesi fa. L'assessore Angelucci rappresenta di essersi interfacciata con l'assessorato Capitolino, che a sua volta collabora a stretto contatto con il Dipartimento. Questo aggiornamento avviene dopo quello della chiusura della conferenza dei servizi. Si parla di quella di Viade delle Tre Fontane, della Dorsale Tevere Sud, attraversamento di Via Valfiorita, Via Legeo e Via del Cappellaccio. Questo verrà realizzato con fondi del Ministero dell'Ambiente ed in corso di completamento la progettazione esecutiva ed è in programma dell'inizio dei lavori entro 2024. Ha una lista completa e domanda se può elencarli. Il Presidente risponde che ogni aggiornamento è ben gradito. L'assessore Angelucci informa la Commissione che si parla della ciclabili di fonte meravigliosa Via Gradi, più che Prato Smeraldo, che si trova all'interno dell'isola ambientale dei progetti di bilancio participativo del 2018 ed è in avvio alla fase dei lavori di realizzazione. Per quanto riguarda la famosa ciclabili dei cinque quartieri, in corso è il completamento della progettazione definitiva ed è previsto il completamento della progettazione definitiva entro l'anno corrente. La consigliera Canale riferisce di aver bisogno di un progetto definitivo riguardante la ciclabili dei cinque quartieri. Domanda se la stanno modificando. L'assessore Angelucci risponde che non lo sa, ma crede si tratti di qualche modifica, magari un adeguamento dei costi. Si informerà e riferirà alla Commissione. Prosegue citando quella del tratto che va dalla zona di Tordivalle al ponte monumentale di Mezzocammino, fino al confine Policomune di Fiumicino, che farà parte della ciclovia tirrenica, il cui progetto esecutivo è stato approvato ed è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori. Poi ci sono via Leggeo e via all'Oceano Pacifico. E' stato approvato l'esecuzione e anche qui è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori. E' stato approvato il progetto esecutivo? No, aspetta, è stato approvato? Il progetto esecutivo? Sì. E anche qui è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori. Su queste, con l'aggiudicazione dei lavori, farà degli approfondimenti, come vedere il tracciato, eccetera. Poi c'è il collegamento di Viare Città d'Europa con Gran America. Il progetto è stato affidato ad Astral. Va detto che si è stati piuttosto solerti perché si è trovata la stazione appaltante che prendesse in carico tutto, ovvero Astral. Su tutta Roma c'è un finanziamento di 50 milioni di euro e il contratto è stato firmato il 31 dicembre. Ricorda che le imprese appaltate da Astral devono completare i lavori entro giugno 2026. Infine si sta studiando per via del Risaro a Vitinia, per quella del campo biomedico, e per il collegamento tra il termine Laurentina e via di Bignamurata, ma che saranno successive. Quindi bisogna capirlo con Astral e con le ditte a cui Astral si è affidata. L'assessore Capitolino non può essere d'aiuto per la tematica perché si occupa di altri campi. L'assessorato Capitolino, sì. Può solo riferire che si è deciso di collaborare con Astral per riuscire a ottenere qualcosa e che la sinergia ha funzionato. Nelle prossime settimane pianotazione sarà condiviso. Però, vabbè, poi glielo gireremo magari nel dubbio nel caso di un rispondere. Non è che si occupa di altri campi. Lui era presente per il punto successivo. Ah, ok. Ricordo che Antonini disse questo. Rimango qua, ma sono, diciamo... Perché partecipa per il punto successivo. Esatto, esatto. Il presidente Corrente ricorda che entro a fine del 2024 è prevista la costruzione dei lavori per alcune piste molto importanti per i territori. L'assessore Angelucci evidenzia che occorre i tempi tecnici per il riperimento dei materiali. Tutte le ciclabili saranno concuse nel 2026. C'è una razza per chi ancora deve concretamente iniziare. Non sa se si lavorerà per il municipio o a Vacchia di Lopardo. La consiglia canale domanda la possibilità di condividere la nota resuntiva e le ricordi punti luce per via Laurentina e via Riettina. L'assessore Angelucci riferisce che invierà la nota resuntiva al presidente e che la condividerà con la commissione. E se ne sa lì di punti luce... Giulio, i punti luce, il protocollo con ANAS per i punti luce. Allora, di là... Sì, se no così non si capisce. Correggila pure, mettila come... Eh, appunto, la consigliera canale domanda la possibilità di condividere la nota e le ricorda il protocollo dei punti luce con ANAS. Il protocollo dei punti luce con ANAS per via Laurentina e via Riettina. La seduta dipende del 10 e 15 e l'aprile punto 3 è stata l'azienda di lavoro e capolinea via Brunetti. Il presidente rappresenta di aver convocato a questo punto all'ODG alla luce di segnalazione e sopra luoghi conoscenze del territorio e lascia la parola a Roma Servizi e Mobilità. Roma Servizi rappresenta che si occupa della pianificazione e che non può dire quali siano i tempi precisi. Si stanno attivando con la pianificazione per le modifiche dei percorsi che porteranno le quattro linee allo stesso capolinea. A suo sapere si stanno aspettando i permessi autorizzativi. Il presidente ricorda che lo spostamento riguarda le linee 073, 074, 071 e 071. Roma Servizi rammenta che tutto ciò ha lo scopo di avvicinare le linee al filobus. Negli anni è stato chiesto uno spazio per permettere uno scambio. Il presidente corrente evidenzia il problema della presa in carico dell'area che era in carico al consorzio. In questo modo la funzionalità del filobus diventa più logica. Roma Servizi sottolinea anche l'importanza di allontanare il capoline degli autobus dalle case evitando il problema di rinquinamento acustico ed atmosferico. Preso atto di quanto riportato dal cittadino residente di Trigoria il presidente rimanda all'argomento il quarto punto all'ODG vari ed eventuali. L'assessorato capitolino riguarda il capoline via Brunetti rappresenta che si sta aspettando la determina del traffico del dipartimento PAO per calendarizzare una riunione con Attac. Il presidente corrente risume contenersi in seduta e il cittadino risponde che per la linea 788 è previsto lo spostamento della capoline da via Cacciopola e via Brunetti ma non sa se sarà ora o in passaggio successivo. Per il quinto punto all'ODG vari ed eventuali. La consiglia canale riferisce che l'acquisizione del piazzale di Noviola è quasi completata e che la tematica sarà all'ODG della prossima seduta della commissione quinta. A tale proposito interviene un cittadino residente nel quadrante. Il presidente riassume quanto rappresentato dal cittadino che domanda informazioni su capoline di via Guasta e che lamenta l'assenza di collegamenti con trasporto pubblico a Trigoria Alta. Il presidente ricorda che c'è un problema perché una parte di un campo di calcio dell'ES Roma sporge sulla strada. Le digeravano notte al dipartimento e all'assessorato capitolino competenti per avere informazioni su capoline di piazza Guasta però per calendarizzare eventualmente una seduta di commissione. Inoltre ricorda che si dovrà procedere con un piccolo esproprio che ci sono problemi per la lunghezza dei mezzi. Ricorda invece per Trigoria Alta si dovrà procedere con un piccolo esproprio che sono problemi per la lunghezza dei mezzi e anche a diluminazione. Evidenza che le tipiche dei esproprio sono molto lunghe. Presidente, rispondendo all'ipotesi di doppiare i tragitti all'altezza del civico 251 e di utilizzare diciamo di utilizzare l'accesso all'altezza del civico 251 sul giudice del cittadino riferisce che è stata bocciata sia dal dipartimento che dal nome servizio a causa dei grossi problemi di attracciato soprattutto all'altezza del ponticello. Presidente, esauriti tutti i punti dell'Odg alla 10.50 richiara chiusa la seduta. Allora, se non ci sono interventi da parte dei consiglieri lo diamo per approvato il seduto odierna. Ok. E avevamo solo questo, giusto? Sì. Ok, allora diamo un quarto d'ora di pausa cominciamo alle 9.30 con il secondo punto dell'ordine del giorno che era anzi facciamo così facciamo così ci portiamo avanti con la lettura posta e diamo lettura della nota che ha mandato il comitato di quartiere a fonte laurentina propedeutica poi al punto 2 all'Odg la recupero un attimo così ci avanziamo alla proposta e allora Teams file posto ed eseguere Maria hai visto che sono presenze, no? Sì, sì. Io ho visto che sono presenze per non la risposta di integra. Allora, Maria, condivido anche questo. Sì. allora questa non l'abbiamo ancora era, no? Non è ancora stata letta in commissione quindi è protocollo CN 22958 del 15 febbraio è il comitato di quartiere a fonte laurentina che indirizza la commissione direttamente e l'oggetto è la proposta di cambiamento dell'itinerario oggi insistente per le linee bus 73 e o 788 lungo viale Leoni da Tonelli quartiere fonte laurentina dettile precedente corrente con la presente cdq laurentina fonte laurentina fa presente che l'agglomerato urbano del comparto torpagnotta 2 sempre più numeroso per la continua edificazione di palazzine ha ormai raggiunto un'espasione rilevante tale che in alcuni punti gli abitanti per raggiungere la fermata più vicina devono percorrere a piedi alcune centinaia di metri nel caso delle agglomerate di viale Leoni da Tonelli dove ad oggi non transitano bus e pertanto gli abitanti sono costretti a percorrere a piedi un notevole tragitto per raggiungere fermate più vicine in via Tedone dei bus di linea in particolare 73 74 e 788 certo che tale condizione ancora più disagevoli soprattutto nelle ore serali in funzione della sicurezza incolumità degli abitanti per la percorrenza a piedi del lungo tragitto in ragione di quanto sopra si chiede di valutare un'ipotesi di cambiamento dell'itinerario oggi esistente per le linee bus 73 788 tale da consentire superamento delle criticità evidenziate oggi più che mai oggetto di lamentela della popolazione inipresente si prega pertanto di convocare apposita riunione commissione municipale e mobilità in modo da poter approfondire la proposta convocando per audizione le agenzie i rappresentanti tecnici competenti al riguardo si riproduce in calce la rappresentazione grafica della modifica proposta però in bianco e nero io forse ho la mail loro a colori quindi magari dopo vedo di recuperarla per l'audizione del comitato proposta da rotatori del comitato del comitato e ritorno questo però un postopero deve avere un'anteopera ok in attesa di cortese riscontro resta di sunire qualsiasi sopraluogo e approfondimenti ritenuti utili cordiali saluti presidente CDQ Michele Ambrosone allora questo è il tema del punto successivo allora do dieci minuti di pausa ci riprendiamo interrompiamo la registrazione riprendiamo alle 9.30 con il punto che abbiamo anticipato in lettura ai commissari questa Maria la teniamo in evidenza ok e ci vediamo alle 9.30 si rompo la registrazione sono le 9.18 ok sono le 9.31 allora riprendiamo la commissione dal punto 2 che è l'audizione del comitato Fonte Laurentina che richiedeva appunto un'audizione in commissione mobilità al fine di illustrare diciamo una proposta che andasse a servizio di una maggiore fruibilità delle linee che attraverso il quartiere andando a servire una parte di territorio che non è servita prima in nelle varie eventuali avevamo condiviso il progetto la lettera il progetto che avevano presentato la richiesta che avevano presentato la condivido a schermo e lascio la parola al comitato di quartiere scusate che condivido intanto l'immagine ok e lascio la parola al comitato di quartiere ok non si è proprio il comitato di quartiere buongiorno presidente corrente ci sentite? si si sentiamo bene buongiorno buongiorno c'è qui il presidente Michele Ambrosone io sono Domenico Foffo il coordinatore del comitato di quartiere Fonte Laurentina e noi abbiamo ricevuto questa richiesta da parte dei cittadini in quanto la zona nuova appunto non è servita e quindi numerosi cittadini ci hanno chiesto di avere un servizio che li potesse avvicinare al corridoio della mobilità tramite tramite Aulmus perché insomma ci hanno specificato che soprattutto nelle ore mattudine le ore serali insomma il tragitto per raggiungere la prima fermata utile è molto lungo sono circa 600 metri e avevamo ipotizzato questa diciamo questa deviazione delle linee che arrivano da via Marcello Bombersi oppure da via Bruno De Finetti abbiamo a grafica si può vedere su via Leoni da Tonelli via Leoni da Tonelli è una strada molto larga doppia corsia che è separata da uno spartitraffico centrale e quindi la percorrenza è agevole e volevamo chiedere appunto se c'era la possibilità di fare questa piccola deviazione dovrebbero essere in totale 600 metri 400 e 400 400 e 400 andate in ritorno e non so cosa cosa ne pensa la commissione se è praticabile questa proposta l'esigenza da parte dei cittadini c'è quindi brevemente io penso che abbiamo un po' illustrato qual è il senso le motivazioni secondo noi la fattibilità è abbastanza agevole anche dal punto di vista della sostenibilità dei costi per il chilometraggio teniamo presente anche che adesso ci sarà l'apertura del nuovo capolinea lì in via Brunetti dove verranno attestate le linee 073 074 071 quindi tutto quel percorso in più che si faceva da via prima via Brunetti rotatoria poi per ritornare al capolinea di via capelli credo che sarà accorciato quindi si può magari ottimizzare quello che si recupera da questo accorciamento sia pur breve di queste linee magari si può si può aggiungere colmando un'esigenza una richiesta dei cittadini grazie per l'attenzione se puoi aggiungere qualcosa troppo il quartiere sta andando in espensione per cui sono diventando e alcune zone sono proprio sprovviste di servizi chiaro no no chiaro la richiesta la proposta insomma la richiesta è che invece che proseguire da via conversi verso via Tedone per poi fare il ponte diciamo del raccordo si effettui questa questa deviazione questo prolungamento su via Leone da Torelli rotatoria ritorno su Tonelli e Tedone ponte mi sembra una proposta anche di di buon senso insomma sentiamo sentiamo un parere tecnico da parte di Roma Servizi e poi proseguiamo grazie non mi sento io sì sì beh sì allora ovviamente era diciamo la problematica era già nota e fa parte di tutti quei ragionamenti che stavamo facendo con il dipartimento ma anche in parte con il municipio e sono diciamo allora con l'apertura del capolinea di Brunetti nell'immediato stiamo pensando proponendo di diciamo metterci tutte le linee che adesso stanno lì davanti la scuola quindi la 071 73 74 e è in valutazione anche l'ipotesi di di collocarci il capolinea del 788 però dobbiamo ancora ragionare sia col municipio che con il dipartimento si è fattibile nel caso fosse fattibile diciamo la linea che potrebbe essere prolungata all'interno del quartiere così come proposto potrebbe essere proprio la 788 però ripeto il quadrante il municipio lo sa è oggetto di una revisione più ampia che è in corso di condivisione con il dipartimento quindi insomma sì una soluzione andrà trovata non so se sarà con il 788 o con qualcos'altro comunque diciamo accendiamo la lampadina sulla problematica la includiamo nei ragionamenti ok sì sì peraltro punto come diceva lei eravate già a conoscenza di questa tematica quindi una riflessione già in atto e nello studio diciamo globale della razionalizzazione derivante dall'attivazione capolina Brunetti questa è una che si può inserire valutando quale delle linee poi andrà a servizio di Viale e non di Abrunelli questo mi sembra un po' la sintesi insomma quindi mi sembra sia ampia apertura su questa proposta ecco ci sono altri interventi quindi rimandiamo insomma a una successiva come dire analisi delle delle varie diciamo modifiche che interverranno consapevoli del fatto che questa attenzionata non serve fare un atto di indirizzo politico su questo direi che penso che la condivisione in commissione la presa in carico presa in carico insomma l'attenzione su questo tema sia presente vedo Ambrosone che ha richiesto la parola sì no 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 va bene siamo in due con lo stesso sì sì va bene comunque il comitato ha chiesto la parola sì Presidente visto che l'agenzia ha parlato del capolinea di via Brunetti di eventuali spostamenti della linea 788 del capolinea e cioè noi lì il capolinea attualmente si trova nel quartiere di Casalfattoria quindi senz'altro se si fa uno spostamento di questo capolinea come già avvenuto in precedenza andrebbe coinvolto anche il comitato di Casalfattoria perché in precedenza lei lo sa c'è stata pure una riunione apposita proprio per parlare del capolinea del 788 quindi non potremmo poi creare degli incidenti con gli amici di Casalfattoria comunque riprendendo anche il discorso dell'agenzia della mobilità attualmente le linee 073 e 074 risalgono via Capelli per fare la rotatoria e poi ritornano indietro al capolinea e per tornare indietro sfruttano proprio quella rotatoria che è alla fine di via Leleoni da Tonelli quindi si potrebbe modificando in corso un po' la nostra proposta si potrebbe valutare anche lo 073 o lo 074 prendendo appunto la rotatoria di via Guido Tascoli che poi mette in via da via Capelli via Guido Tascoli poi mette su via Leleoni da Tonelli e tornare indietro su via Marcello Conversi per andare al capolinea di via Brunetti si potrebbe anche ipotizzare questa non so questa variante non so cosa ne pensi l'agenzia della mobilità sono valutazioni tecniche che poi faranno in base a tutta una serie di parametri allora l'idea è di buon senso è condivisibile poi tecnicamente come verrà realizzata nell'economia generale di chilometri percorsi tracciati e quant'altro è una competenza diciamo tecnica per cui loro prendono prendono atto della richiesta dei suggerimenti poi chiaramente è il loro mestiere quindi io gli lascio della massima autonomia importante che l'obiettivo sia raggiunto poi come risente di una serie di parametri che necessariamente dovranno essere rispettati insomma però non mi sembra che ci sia una chiusura mi sembra che ci sia una valutazione in atto mi sembra che ci sia una condivisione poi ecco ci sono i tempi tecnici perché non riguarda solo quella linea lì solo quel tracciato lì ma tutta una riflessione generale di ottimizzazione di tutto quel quadrante diciamo che afferisce al Capolinea Brunetti a seguito dell'apertura prossima del Capolinea Brunetti quindi insomma mi sembra che su questo ci sia ci sia convergenza da parte di tutti ecco poi sulle modalità ognuno per la sua diciamo parte competenza lavorerà per raggiungere l'obiettivo scusa ma i tempi tecnici è quello che ho detto prima i tempi sono tecnici quindi non è domani dire una data sarebbe un'ipoclesia nel senso che non si può dire ora ne stiamo parlando adesso l'avete proposta dire un tempo adesso penso sia impossibile non solo da parte nostra che siamo un organo politico ma anche da parte da parte anche dalla parte tecnica perché ripeto non è solo quella linea lì quel tracciato lì che viene modificato ma è all'interno di una riflessione generale che verosimilmente dovrà essere avviata quanto prima poi con che tempo andrà a terminare ci confronteremo in corso d'opera durante lo stato di avanzamento della lavorazione consigliere Bedoni sì grazie presidente solo per dire che il risultato mi sembra ottimo nel senso che c'è latte per rafforzare il suo pensiero presidente che c'è l'attenzione da parte degli uffici l'analisi è stata fatta chiaramente il progetto non è a sé stante ma come dice lei si incastona in un quadro più ampio quindi vanno fatte delle verifiche servono dei tempi però credo che per rassicurare i cittadini il risultato di stamattina sia più che eccellente nel senso che il progetto attenzionato è è voluto è già sotto lavorazione ci saranno sicuramente dei tempi tecnici per l'attuazione ma questa è la pubblica amministrazione quindi non è che colpa della commissione o del o del dottor Caruso nel senso che ogni cosa ha bisogno di alcuni tempi però presidente credo che in un tot sicuramente saremo in grado di riaggiornarci e il discorso quindi secondo me bisogna prendere il buono della giornata grazie presidente volevo dire solo questo grazie del supporto no no questo è il ragionamento insomma sicuramente prima dell'attuazione ci sarà un ulteriore passaggio in commissione dell'attuazione della razionalizzazione e revisione generale insomma di queste di queste nuove modifiche ci sarà un passaggio in commissione condiviso col territorio quindi insomma in fase di lavorazione di progettazione di studio da parte di Roma Servizi del Dipartimento verrà condiviso con la commissione col municipio di conseguenza col territorio un percorso lineare che abbiamo già fatto anche in altre occasioni insomma e che mi sembra che ha portato dei risultati fondamentalmente abbastanza condivisibili quasi sempre insomma quindi questo è il percorso già come dire consolidato e che continueremo a portare avanti quindi su questo tema io non avrei altro da aggiungere non so se qualcun altro vuole aggiungere rimandiamo a un aggiornamento prossimo venturo nel momento in cui ci sono novità fermo restando che comunque l'inlocuzione col Dipartimento di Roma Servizi anche su questa tematica è partita era già prevista e quindi insomma avrà un suo percorso che porterà una soluzione va bene mi avvalgo le silenze a senso di tutti allora noi abbiamo un altro punto che riguarda sempre l'agenzia Roma Servizi alle 10 e un quarto io però ho degli ospiti che mi vengono alle 10 e un quarto per cui non vi vorrei fare aspettare fino a quell'ora rimanderei il punto alle 10 e un quarto chiedendo la cortesia soprattutto a Roma Servizi perché vedo che parte degli invitati per il punto di 10 e un quarto sono già presenti per quell'orario lì quindi vi lascio magari a compiti più importanti che non guardarci negli occhi e ci aggiorniamo alle 10 e un quarto per il terzo punto che riguardava il discorso Trigoria Alta annosa problematica che ci trasciniamo da tempo e quindi sulla quale insomma conviene fare un punto della situazione e provare a riprendere un po' le fila di quel poco tanto che era stato imbastito all'epoca quindi se chiedo la cortesia insomma di Roma Servizi di aggiornarci con loro alle 9 e un quarto alle 10 e un quarto scusate per il terzo punto che riguarda Trigoria Alta va bene va bene a dopo grazie allora Maria se non abbiamo altro da aggiungere grazie a voi del suggerimento mi sembra comunque di buon senso ripeto condivisibile e mi sembra che abbia avuto anche insomma il parere positivo e peraltro già attenzionato da parte di Roma Servizi allora io darei una pausa fino alle 10 e 10 10 e un quarto in maniera tale che così aspettavamo anche la consigliera Pasetti che aveva chiesto di essere presente più altri cittadini che magari saranno stati informati di questo a netto della regolarità della privacy e ci aggiorniamo alle 10 e un quarto perfetto interrompo la registrazione sono le 9 e 46 grazie 10 e 0 7 perfetto sì abbiamo anticipato la commissione di una decina di minuti per così anticipiamo anche l'apertura della commissione per la lettura di una di una nota che è arrivata da parte di un cittadino relativo a una segnalazione di una pista ciclabile allora vediamo dove vediamo dove qua ok eccola qua allora il CN 18485 è un tratto pista ciclabile tra Viale Guglielmi e Via Andrea Cascella Francesco Calderini che lo manda al direttore Sica a me alla Presidente all'Assessore al Dipartimento al Comando di Polizia Locale e al Gabinetto del Sindaco urgente a mezzo PEC del 5 febbraio aspettabile uffici comando oggetto trattaci gravi tra Viale Guglielmi via Andrea Cascella interruzione pubblico servizio e minaccia l'incolumità pubblica di fida da dempire messi in mora in senso articolo 328 codice procedura penale aspettabile uffici comando la presente per segnalare quanto segue in data 5.2.24 alle ore 18 circa il sottoscritto rientrava dal lavoro percorrendo come abitudine il percorso ciclabile in capo al Comune di Roma nel tratto in oggetto percorrendo da Viale Luigi Guglielmi mi trovavo il percorso chiuso da un cancello con catena metallica in corrispondenza di Via Andrea Cascella ed ero costretto a tornare indietro tornato su Viale Luigi Guglielmi venivo invitato da un individuo che si qualificava come presunto volontario del Comune di Roma senza identificarsi o mostrare un titolo a non impegnare la ciclabile in oggetto in quanto aveva il compito di chiudere la porzione di palco pubblico che la stessa ciclabile attraversa nessun regolamento ordinanza è esposto a nessuna delle inestri del suddetto parco solo un foglio di carta a firma di un sedicente comitato di quartiere era affisso a intimare il divieto in eccesso dopo il tramonto il suddetto individuo tra varie imprecazioni mi minacciava tra l'altro di chiudermi all'interno se non mi fossi allontanato il suddetto chiamava il comando del nono gruppo di polizia locale ma sebbene facessi presente che era in corso un presunto reato di minaccia introduzione di pubblico servizio aggravato dalla materia concernente la sicurezza e incolumità pubblica non riceveva alcuna risposta in merito se non la raccomandazione di seguire l'istruzione dell'individuo che mi obbligava di impegnare in bicicletta di notte tra le vicine di auto limiti sulla strada doppia corsia per senso di marcia e di proseguire con una direzione di circa due chilometri su viale Guglielmi e viale Bartolomeo Cavaceppi già a teatro di numerosi sinistri solo per poter riprendere il mio percorso sulla ciclabile più avanti nei 15 minuti in cui ero impegnato a rappresentare quanto sopra al telefono sopraggiungevano due minori a piedi un minore in monopattino e un adulto in bicicletta a tutti quanti l'individuo di cui sopra impediva di percorrere i 200 metri di percorso ciclopedonale li invitava a fare il giro la suddetta ciclabile e il tratto in oggetto fanno parte delle piste ciclabili su strada in capo al comune di Roma e deliberate essensi di quanto disposto dall'Assemblea del Comune di Roma piano quadro ciclabilità di Roma Capitano nessun regolamento a disposizione eventualmente adottati dal municipio può annullare o modificare quanto disposto da una deliberazione dell'Assemblea Capitolina l'interdizione serale del tratto di pista ciclabile in oggetto configura un reato di introduzione di pubblico servizio oltre a rappresentare minaccia mortale per l'utenza che invece di percorrere 100 metri di sicurezza è costretta a impegnare la viabilità ordinata dall'altro scorrimento con una deviazione di due chilometri su strade pericolosissime nell'oscurità e con scarsa visibilità ed esposta a serio rischio di investimento allora diciamo che mi sembra una segnalazione di una certa pregnanza e il tratto diciamo molti di voi conosceranno ma lo condivido in discussione è questo la ciclabile è questa qua Caraceppi vabbè Guglielmo Guglielmi Cascella è Torino Mezzocammino chiaramente il quadrante il quartiere e il tratto è questo Guglielmi tratto Cascella poi si riprende e prosegue sulla ciclabile Cascella da quanto ho capito chiudono qui e qua io l'ho letta adesso guardando la posta non ero a conoscenza quindi non so se qualcuno di voi ha avuto qualche segnalazione ulteriore su questo tema magari può essere un tema di commissione prossima avventura invitando polizia locale un dipartimento per capire che titolarità c'era su questa su questa chiusura io farò un sopralluogo magari se qualcuno vuol farlo giusto per capire in quell'orario cosa succede però questa Maria la teniamo comunque agli atti ok e vediamo insomma se convocare appunto il cittadino con gli interlocutori adatti a dare una risposta perché non è neanche tanto recente è un po' che non guardavo la posta però settivamente si è del 5 febbraio insomma un paio di settimane fa quindi quindi c'è scappata insomma non è arrivata per le vie ordinarie è arrivata direttamente al protocollo perché era una PEC e quindi è stata caricata quindi va bene allora a questo punto siamo quasi a ridosso del punto relativo a Trigoria Alta aspettiamo questi tre minuti vedo anche la consigliera Pasetti che si è già collegata buongiorno 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 aspettiamo Roma Servizi che era già collegata per il punto precedente ma che abbiamo liberato avendo fatto interruzione vedo Damiani e Stasi e quindi diciamo che appena entra Roma Servizi cominciamo riprendiamo il punto tre sul collegamento TPL Trigoria Alta rinnovo il buongiorno buongiorno e buongiorno a Laura Pasetti sì buongiorno buongiorno ricordo agli ospiti che si interviene per l'alzata di mano interventi brevi e puntuali perché la tematica insomma è assai diciamo contorta piena di di stimoli e di riflessioni quindi vedo che Laura ha alzato la mano sì grazie presidente volevo soltanto sapere l'elenco degli invitati se sia stato anche chiamato il consorzio per caso non ho capito prego è stato chiamato il consorzio perché oggettivamente io quando nella scorsa consigliatura finché è stata seguita da questa commissione la faccenda l'interlocuzione era con il consorzio Trigoria Alta perché in realtà l'intervento anche diciamo strutturale che necessita quella quella viabilità era in carico al consorzio essendo strada privata quindi il consorzio è interlocutore per quanto mi riguarda è principale di questa faccenda perché parte in caso in qualche modo vedo Gianluca Spirido che si è collegato allora non so se Gianluca viene anche Caruso per il punto 3 oppure se sono tu si sta collegando ah perfetto aspettiamo anche si vi illustra fino a che punto eravamo arrivati noi esatto Gregorio perfetto grazie grazie ecco perfetto allora diciamoci siamo tutti c'è il consorzio di Trigoria Alta c'è anche la consigliera Pasetti che ha chiesto di partecipare vedo Roma Servizi allora io farei fare a Roma Servizi che ha vissuto diciamo in prima persona questa faccenda un po' un escursus di quello che è avvenuto e a che punto siamo arrivati perché poi questa commissione aveva perso aveva perso diciamo un po' il filo del discorso perché era in termini di consigliatura e quindi la cosa non è stata più seguita sono intervenute altre realtà insomma ad occuparsene e quindi a che punto siamo con Trigoria Alta allora vi aggiorno o meglio faccio un riassunto delle puntate precedenti per chi non le conosce allora sostanzialmente la questione è addirittura antecedente al mio ingresso in questo servizio parliamo del 2013 quando già giustamente la cittadinanza chiedeva appunto il servizio di trasporto pubblico già all'epoca fu evidenziato dal municipio a quanto leggo dalle note insomma dal dipartimento scusate che purtroppo le viabilità presentavano dei punti critici che impedivano il transito di qualsiasi tipo di vettura poi invece nel 2021 e per giù nel mese di maggio aprile-maggio ci incaricarono ci incaricò il dipartimento di fare uno studio preliminare insomma per soprattutto per determinare cosa occorresse fare per consentire il transito dei bus e in questo partecipai ovviamente anch'io che ero già già in questo servizio e facemmo un lavoro abbastanza dettagliato analizzammo le tre le quattro proposte che pervennero all'epoca dal dal municipio immagino veicolando le richieste del comitato di quartiere e analizzammo tutti i tracciati evidenziando i punti critici sia riguardo insomma alle sezioni stradali ridotte che quindi erano diciamo sono non so se sono state lavorate ma sono fuori norma e non consentono il transito del TPL né delle vetture normali da 12 metri né di quelle piccole facemmo fare anche le simulazioni dagli uffici nostri che hanno il simulatore di tracciato per verificare gli ingombri e le curvature e quindi insomma producemmo uno studio abbastanza ampio e con delle zoomate puntuali evidenziando tutti i punti critici e suggerendo quindi gli interventi necessari che costituiscono ve lo faccio in sintesi principalmente in ampliamento della sede stradale laddove scende sotto i sette metri perché ricordo che il PGTU purtroppo ci impone questo vincolo per il transito del TPL e addirittura la modifica di tracciato stradale di alcuni tratti perché ci sono delle curve molto strette e purtroppo una di queste è proprio all'ingresso nel quartiere dal lato del piazzale Vino Viola e quindi preclude le proposte a valle per servire giustamente tutte le altre aree urbanizzate questo poi c'erano dei problemi di carenza di illuminazione e in alcuni punti la necessità di realizzare un minimo di percorsi pedonali quindi di marciapiedi che sono purtroppo assenti perlomeno in corrispondenza delle fermate del TPL insomma non so questo studio noi lo mandammo al dipartimento ovviamente come da da procedura e il dipartimento lo girò a maggio c'ho la nota se volete così potete ricostruire anche voi il 14 maggio del 2021 se vuole vi dico anche il protocollo del dipartimento sì grazie la commissione non ha avuto contezza di questo bene NQG 19.038 del 14 maggio 2021 NQG 19.038 va bene in generale questo è diciamo ora lo scopo di questo studio appunto che ci chiesero era perché sembrava che a un certo punto non so chi avesse trovato fondi per poter intervenire infrastrutturalmente e quindi a valle di questo spero che qualcuno abbia fatto degli studi perché qui bisogna intervenire sull'infrastruttura quindi non si parla solo di piccole lavorazioni insomma sono modifiche di assi stradali che comportano una progettazione che da norma che fra l'altro noi non facciamo in tutto questo l'aggravante è che il tratto stradale è di proprietà privata uso pubblico quindi non è di croma capitale infatti la cosa che credo stimolò appunto questo avanzamento fu proprio il fatto che sembrasse interessato il privato proprio a migliorare la viabilità solo che poi non abbiamo saputo più nulla noi quindi da maggio 2021 ad oggi siamo così siamo rimasti quello studio però quello studio rilevava le criticità da superare per portare il servizio pubblico esatto quindi questo quindi quello è un punto di partenza diciamo indispensabile perché quello diciamo sancisce il fatto che possa passare in mezzo pubblico adeguandolo alle prescrizioni diciamo alle indicazioni contenute in quello giusto? esatto dopo nascono i soliti problemi di produzione che però insomma di pianificazione che è il nostro lavoro chiaro e chiaramente l'ingresso era l'accesso era sempre da piazzale di Noviola non era stata valutata l'ipotesi civico 251 che mi sembrava presentasse problematiche ancora più grandi sono stati valutati ripeto le quattro proposte tra cui una era quasi tutte o meglio la necessità di entrare dal piazzale di Noviola è imprescindibile per raggiungere il quartiere poi c'era anche la proposta c'è il ponticello famoso via come si chiama Rena se non sbaglio che è stretto e quindi non consente il transito e quello diciamo è il secondo punto che isola tutto il quadrate i punti di accesso sarebbero questi quindi risolvendo uno dei due già si avrebbe un passo avanti però ovviamente la parte sotto quella del ponticello che citavo una volta entrati da lì bisogna risolvere tutti i problemi che abbiamo trovato lungo il tracciato mentre risolvendo la curva stretta di ingresso da piazzale di Noviola sostanzialmente lì poi la strada ha diciamo delle lavorazioni un po' inferiori nel senso che c'è soltanto un problema di illuminazione di percorsi pedonali forse in qualche tratto un pochino di sezione stradale però sostanzialmente si riuscirebbe ad arrivare un pochino all'interno se non si risolve quello non c'è possibilità ecco di entrare in quello ok d'accordo vedo che è collegato il signor Damiani del consorzio e se sia piacere di fare un chiarimento delle domande insomma in merito a questo che mi sembra assolutamente una fotografia molto chiara ma anche un punto di partenza da cui partire nel senso che come ci siamo detti anche nelle passate volte in cui si è trattato questo tema è chiaro che è necessario un adeguamento diciamo strutturale del tracciato per permettere il passaggio del mezzo pubblico e sono state individuate le tipologie di intervento è una strada privata a uso pubblico e quindi l'intervento può essere solamente da parte del privato quindi nello specifico del consorzio quindi questo mi sembra un po' la sintesi di questo punto ecco considera Pasetti signor Damiani ne prendete atto sì presidente grazie io ho preso atto della situazione soprattutto perché l'abbiamo studiata e ristudiata un po' in tanti quindi dal 2013 il primo momento in cui fece il primo sopralluogo con l'amministratore carissimo Aldo Campagnale che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa si erano già manifestate queste problematiche e le problematiche ovviamente non sono state modificate perché non è intervenuta nessuna opera strutturale a farlo naturalmente non ci sono stati presupposti e ancora secondo me non abbiamo ancora ben individuato quale possa essere diciamo il male minore la possibilità più pratica e più rapidamente eseguibile per poter dare finalmente a Trigoria Alta un servizio di cui il quartiere è carente da moltissimo tempo teniamo presente che ormai gli abitanti superano abbondantemente mi sembra mille mille e due addirittura e senza servizi purtroppo questo quartiere soffre soffre ma soffre anche in termini di valutazione di qualificazione economica delle abitazioni perché è evidente che venire a vivere qui vuol dire comunque perlomeno essere automuniti diversamente è pressoché impossibile si sono verificate si sono fatti tanti studi in proposito mi pare di capire di ricordare che tra i vari studi uno degli ultimi finalmente abbiamo abbandonato l'idea dell'autobus così come lo intendiamo in favore di una navetta piccolina che possa avere una capienza limitata che sarebbe più che sufficiente per il quartiere si tratterebbe però in questo caso mi sembra che potrebbe essere la soluzione migliore ma poi sentiremo i tecnici sentiremo anche forse Stasi che comunque ha parlato con la mobilità di recente lavorando anche per trasporti pubblici quindi forse ha più notizia da darci sarebbe auspicabile la possibilità di fare proseguire la navetta che gira per Trigori adesso mi sembra 073 fino almeno a Trigori Alta dove ecco questo forse è un argomento che è l'argomento che va ripreso ricominciando da dove ci si era affermati nella passata consigliatura ma soprattutto tutto il lavoro che era stato fatto non si può perdere a mio avviso era stato fatto un grande lavoro in tutti questi anni dovremmo riprendere sicuramente velocemente in mano quanto possibile per poter capire come poter procedere eventualmente coinvolgendo nel caso anche la Roma Calcio mi pare che la essero ma anche su questo dovrebbe essere interpellata magari in una seconda commissione volendo passare da Vinci Guerra fino al 5,50 quindi anche io in realtà al di là di queste nozioni che più o meno conosciamo tutte tutti vorrei capire a questo punto cerchiamo di capire insieme insieme quale potrebbe essere la prosecuzione del lavoro che era stato iniziato è una cosa volevo chiedere forse al dottor Caruso quando parlava di intervento privato si riferiva credo probabilmente al consorzio perché l'unico soggetto che avrebbe potuto avere interesse all'epoca era quello o parlava di altri privati X dei quali però francamente non sono a conoscenza grazie in realtà sì l'avevo detto io all'intervento privato perché quella non è una strada pubblica quella è una strada privata a uso pubblico quindi la proprietà è del consorzio questa è l'annosa vicenda solo che non avevano mai avuto diciamo delle indicazioni sugli interventi da fare questo studio le individua e quindi questo è diciamo l'elemento stativo che impedisce l'attivazione di qualsiasi tipologia di servizio pubblico da piazzale di Noviola in su quindi dovremmo ripartire da quello condividendolo con il consorzio per capire insomma come affrontarlo in termini fondamentalmente economici perché lo snodo è quello c'è l'esigenza di un adeguamento strutturale senza il quale il servizio pubblico non può operare questo parlando chiaramente del consorzio parliamo del 251 vorrei fare un inciso il consorzio è chiaramente non essendo non avendo personalità giuridica è formato da tutti i cittadini quindi non essendoci tra l'altro parti comuni il consorzio sono in realtà i residenti di Tricoria Alta tutti insieme quindi stiamo parlando di eventualmente un argomento che andrà affrontato poi da tutti i privati cittadini che in qualche modo dovranno aderire a una proposta di realizzazione del progetto ma questo come fossero dei frontalieri in qualche modo esattamente siamo tutti frontisti e quindi siamo tutti in parte proprietari fino alla mezzeria della strada e quindi qualunque opera dovrà necessariamente essere a carico dei privati cittadini d'accordo sì sì chiaro quello che si può pensare è appunto di recuperare questo documento e fare un incontro appunto con il territorio per capire con che modalità proseguire che secondo me appunto adesso il problema non è più pubblico diventa assolutamente privato quindi Dipartimento Roma Servizi a questo punto non hanno altra altra funzione se non quello sì se non quella di di poter avere la possibilità di far passare sul pubblico che attualmente non è possibile Damiani sì Presidente mi scusi ma ho avuto dei problemi di carattere di linea io volevo far presente che sto in questa videoconferenza soltanto come auditore non ho mai non ho fatto da cittadino insomma ah ok volevo far presente anche agli eventuali interessati anche immagino alla signora Pasetti che ho una serie di documentazioni che rispecchiano categoricamente quelle che ha detto il dottor Caruso e le stavo proprio analizzando purtroppo sì lo so mi ero interessato a suo tempo dopo per motivi personali e per le covid e via dicendo ho abbandonato la cosa comunque sì capisco e conosco queste e molto bene queste queste problematiche in ogni caso se ci sono degli interessati io posso dimostrare con le documentazioni le varie le varie problematiche appunto la ringrazio presidente grazie a lei Damiani consiglia da canale sì sì volevo dire questo siccome il primo punto è la questione della curvatura come ha detto dottor Spirito mi pare non mi ricordo chi di loro ha parlato di Roma Servizi e della questione della curvatura di piazza di Noviola siccome stiamo discutendo pure del passaggio di questa piazza di Noviola al comune magari potremmo interlocuire pure con la S Roma su questo penso sarebbe sì sì no ma quello quello fare anche a loro questa questione quello è uno dei punti loro hanno la premura di fare questa cessione di piazza di Noviola sì sì quello è uno dei punti perché così è il risultato nella commissione che abbiamo fatto la quinta sì 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 che abbiamo fatto venerdì scorso quindi magari se ne potrebbe parlare con la Roma sì ripeto secondo me noi dobbiamo partire dallo studio che hanno fatto e probabilmente quello spigolo diciamo del campo di calcio è uno è uno degli argomenti poi c'è il problema di illuminazione pubblica c'è un problema di sezione stradale c'è un problema di raggio di curvatura c'è il problema della dimensione di ponticello tutta una serie di situazioni bisogna analizzarli uno a uno già il lavoro che sta facendo la commissione quinta su quel tema lì è importante sicuramente porterà un risultato bisogna capire gli altri che tipo di che tipo di intervento necessitano insomma consiglia Pasetti sì sì volevo soltanto rafforzare infatti quando prima dicevo dovremmo chiamare anche interloquire la Roma Calcio intendevo questo più che altro perché proprio perché c'è il loro interesse confermo quello dice la consigliera Canale c'è il loro assoluto interesse e molta premura di cedere la piazza piazzale di Noviola a questo punto potremmo trovare più interloquire ma soprattutto trovare vogliamo dire un accordo perché mi sembra di capire che sia ormai noto che la Roma Calcio in cui la curva si è allargata un po' troppo sul discorso illuminazione sul discorso invece larghezza delle carreggiate nella parte terminale superiore che arriva al 550 quello potrebbe essere un serissimo problema che escluderebbe a priori il passaggio della navetta se davvero non ci sono le se la larghezza delle carreggiate non consente il transito in entrambi le direzioni dei mezzi è chiaro che lì dobbiamo abbandonare l'idea e tornare dalla parte di Via Arena allora al 251 perché mi pare di capire che lì interventi sarebbero piuttosto importanti a quel punto non a carico del consorzio perché lì siamo fuori del perimodo del consorzio e quindi lì chi interverrebbe perché una cosa che le voglio chiedere Presidente forse lei lo sa ma io non sono ancora riuscita a capire dopo 27 anni di chi è la proprietà della strada via Vinci Guerra all'ultimo tratto che sale fino al 550 il supercondominio sostiene essere proprietà privata quindi se la strada è privata anche lì siamo a punte da capo cambia completamente l'approccio lo chiedo a lei perché forse lei oppure la mobilità lo sa perché ancora non riesco dopo tutti questi anni a sapere di chi sia la proprietà di quella strada secondo me è tutto privato non ne ho contezza notarile ma secondo me è tutto privato è tutto privato è chiaro quindi è tutto privato Roma Capitale non ha titolarità su quelle aree facciamo una verifica con gli uffici c'è elenco delle vie in carico al Municipio 9 piuttosto che Roma Capitale ma direi con una certa credibilità che è tutto privato Damiane ha chiesto la parola la ringrazio Presidente vorrei capire una cosa visto che entrano dal 251 via di Tricoria 251 i mezzi per la scuola bus della scuola bus che sono mezzi da 7,50 sono sempre mezzi piccoli l'unico problema finale sarebbe quello di far fare una rotatoria e già ci sono i consensi da parte dei proprietari anzi del proprietario alla fine di via Calopezzati per poter far sì che il mezzo sempre il 7,50 possa tornare indietro senza nessuna manovra di retromarcia e non capisco per quale ragione ancora non c'era possibilità di mettere un mezzo da 7,50 anche perché quando ci siamo interessati come consorzio stradale i mezzi da 7,50 non c'erano sono venuti dopo un anno dopo due anni ma il tutto si è tacitato grazie Presidente grazie a lei vedo Gianluca Spirito che forse ah no Stasi scusi che può dare che ha chiesto di intervenire io buongiorno a tutti innanzitutto mi appoggio a quello ciò che ha detto anche ha detto signor Lamberto il discorso del ponticello di Trigoria 251 vedo che ovviamente è accessibile che la strada privata sia accessibile comunque ai servizi quindi lì ci passano è vero che è stretto come dimensioni ma è accessibile a un mezzo oltre i due metri e mezzo di larghezza e sette metri perché ci passano sia i scuola bus e passano anche dei camioncini con trasporti animali quindi il passaggio c'è nonostante tutto c'è anche un'indicazione stradale i cartelli stradali dove da precedenza al senso unico alternato quindi diciamo che come peso secondo me ci sta come peso anche come diciamo larghezza si tratta solo ripeto ed è presente anche ripeto i cartelli scorsi cartelli stradali del senso unico alternato quindi chi entra nel consorzio ha la precedenza quindi va così non vedo il discorso che faceva della famosa rotatoria giù è vero non ci abbiamo niente di scritto perché comunque i proprietari del terreno dove consente di far fare una rotatoria per ritorno per girare il ritorno della navetta vorrebbe ovviamente avere la certezza che effettivamente c'è la possibilità di far entrare questa navetta prima di consentire ovviamente questo pezzo qui tutto lì volevo chiarire questo qua insomma come segnaletica stradale come peso su quel ponticello c'è anche perché c'è anche il passaggio di un ulteriore camion di vigili del fuoco quindi dove è consentito passare questi camion è consentito anche come pesi io parlo a livello tecnico anche come pesi di una navetta di dimensioni di 7 metri per 2 metri e 40 tra l'altro quindi come larghezza quindi molto chiaro molto chiaro grazie Caruso sì grazie chiedo scusa volevo dare un paio di contributi e poi purtroppo vi devo salutare che devo andare dal direttore allora per quanto riguarda quelle che chiamiamo navette ovvero i bus di lunghezza 7-7 e mezzo insomma anche fino a 8 purtroppo le geometrie non cambiano nel senso che a livello di ingombro stradale di curvatura si necessita comunque di una sezione da 7 metri purtroppo sul ponticello anche il peso non è un problema perché leggo 15 tonnellate quindi non c'è neanche un problema per i 12 metri volendo ci potrebbe passare il problema è la sezione ma non solo del ponticello anche di via arena che insomma risulta avere sezioni di 4 metri e 4 in alcuni punti quindi mi dispiace ma da regolamento del comune la PGTU stabilisce minimo 7 metri o si rende a senso unico però ripeto non mi sembra il caso noi col TPL lì se non si allarga la sezione purtroppo non possiamo passare detto questo purtroppo vi devo salutare mi spiace rimane il collega spirito se c'è da fare ulteriori chiarimenti ma no no grazie è stato chiarissimo insomma su questo tema c'è stato anche il riferimento dell'ultimo studio che avete fatto e comunque il fatto che i 7 metri sono diciamo il discrimine sotto il quale non si può andare e vanifica ogni qualsiasi altra tipologia di riflessione quindi ringrazio Caruso come sempre prezioso e disponibile e auguro buon lavoro buona giornata arrivederci a tutti arrivederci allora io direi di fare un punto della situazione che se siete d'accordo può essere questo cerco di recuperare questo studio trasportista questo studio questa valutazione diciamo tecnica sugli interventi strutturali da fare per permettere il passaggio del mezzo pubblico nell'area di Trigoria Alta poi da dove fino a dove lo vediamo chiaramente in base alle prescrizioni che ci sono e poi dove andrà affrontato andrà aperto un dialogo insomma con il territorio per capire come risolvere queste criticità che da quanto ha detto Roma Servizi sono inderogabili nel senso è il regolamento viario di Roma Capitale che è inserito nel piano generale traffico urbano di Roma Capitale che prevede che per il mezzo pubblico ci debba essere ci debbano essere 3 metri 50 di corsia mezzo pubblico non vuol dire grande o piccolo cioè va per l'8 va per il 12 per il 18 è un altro discorso perché c'ha c'ha la ralla e tutte le cose mi segnate quindi questo questo direi che può essere un punto di partenza consigliere Canale no solo per dire che ho lo studio quindi magari lo condivido con la commissione ah perfetto perfetto va bene va bene se lo carica sulle piattaforme allora così abbiamo modo di capire si lo giuro nella chat perché non lo so fare Giulio lo sai va bene va bene Damiani ha chiesto la parola Presidente volevo continuare appunto a dire che io ho una serie di documentazioni e praticamente rispecchiano quelle che che abbiamo avuto negli anni precedenti e che ci ha confermato il dottor Caruso per cui se qualcuno è interessato e vuole mi può contattare e gli posso dare queste documentazioni ma documentazioni di che genere scusi Damiani prego documentazioni di che genere e abbiamo avuto degli incontri diretti noi con i mezzi con il traffico locale con il municipio con i vigili urbani ci hanno riscritto dicendo purtroppo appunto queste queste particolarità negative per le quali non è possibile l'intervento di un mezzo pubblico non sapevo che le misure erano le stesse e per i mezzi piccoli e per i mezzi più grandi non sapevo che in ogni caso la normativa prevede che ci siano almeno i famosi sette metri di carreggiata ecco questo qui comunque sono disponibile a dare a chi interessano queste documentazioni la ringrazio presidente buon lavoro e arrivederci grazie buon lavoro a lei arrivederci a tutti e buona giornata a tutti quanti grazie 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 sì sì effettivamente mezzo pubblico è mezzo pubblico quindi l'uso del mezzo piccolo è per ovviare i problemi di angolo di curvatura non di dimensione di carreggiata per cui questo è il motivo per cui si usa il mezzo pubblico l'otto metri insomma sette metri e mezzo otto metri piuttosto che il dodici perché permette un raggio di curvatura più stretto e quindi dove ci sono delle curve più a gomito più difficoltose insomma o dimensioni diciamo al limite della carreggiata permette questo però ecco il passaggio è l'ingombro come diceva anche Caruso è parametrato quello del 12 metri va bene io partirei da qui abbiamo anche il piacere di avere lo studio quindi su questo facciamo una riflessione e poi avremo delle interlocuzioni col territorio per capire insomma anche alla luce della documentazione che ha Damiani cosa può fare il privato perché poi ritorniamo lì cosa può fare il privato al di là della cola Roma le cose però lì è tutta roba privata quindi o si acquisisce l'area il solito discorso che facciamo da tempo soprattutto sulle periferie oppure lì l'intervento è privato quindi c'è l'esigenza di fare chiarezza su questo e chiarezza sulle tipologie di interventi e la quantificazione anche dei costi di questi interventi quando possibile perché poi se invece ci sono delle strade dove ci sono le case le costruzioni a raso del sedime stradale lì l'allargamento non è possibile e quindi o si interviene con una tipologia di senso unico ma diventa problematica conoscendo la zona pensare di fare un senso unico circolare o quant'altro sull'area di Trigoria alta oppure ce ne si fa una ragione cioè sic stanti bus verbi non è possibile fare altrimenti ci sono altri interventi da parte dei consiglieri su questo tema solo per dirvi che ve l'ho condiviso nella chat perfetto grazie perfetto quindi siamo tutti abbiamo tutti in contezza io lo carico sulle piattaforme in realtà che anche la consigliera Pasetti piuttosto che altri consiglieri eventualmente interessati hanno possibilità di accesso è stata in altra commissione e quindi l'argomento per quanto mi riguarda lo possiamo considerare al momento chiuso salvo poi riprendere questo momento in cui avremmo avuto contezza del documento e sulle valutazioni insomma successive da fare ringrazio gli ospiti ringrazio Gianluca Spedito Roma Servizi grazie a voi arrivederci 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 a tutti e quant'altro chiudiamo la commissione alle 10 e 45 perfetto interrompo la registrazione buona giornata a tutti buona giornata a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti